Benvenuti al TG7 Basilicata. Ecco i dati dei contagi da Covid-19 in regione. La Task Force regionale comunica che ieri in Basilicata sono stati processati ben 941 tamponi, di cui 6 sono risultati positivi. Le positività riguardano un cittadino residente a Venosa, uno residente a Melfi, uno a Pesco Pagano, uno a Marsico Nuovo, uno a Moliterno, una persona di nazionalità estera in isolamento nel comune di Varile. Nella stessa giornata sono state anche registrate alcune guarigioni, in particolare le guarigioni di una persona residente a Matera, una persona residente a Policoro ed una a Lauria. I lucani attualmente positivi sono 205 e di questi 193 si trovano in isolamento domiciliare. 14 ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, in particolare a Potenza, 7 persone sono ricoverate nel reparto di malattie infettive dell'ospedale San Carlo. A Matera 6 si trovano nel reparto di malattie infettive di cui una persona guarita in attesa di dimissioni, ecco, è una persona guarita ancora ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Madonna delle Grazie.